... del popolo, stiamo per entrare nel video del festeggiamento del cambio dell'anno dal 2017 al 2018 è importante ogni vostra partecipazione adesso se hai il coraggio lo devi dire qui davanti a tutti perché ogni tanto il Rijio Rivano ha come non lo so un rimugito è una persona